Questa mattina stiamo operando ai giardini Bucci, come vedete hanno vandalizzato soprattutto con le scritte che stavano tolte con prodotti speciali idroppuritrici. I nostri stanno intervenendo con l'utilizzo di nuovi prodotti, come vedete con i idroppuritrici. C'è anche ovviamente molti servizi, quindi stiamo lavorando insieme, molti servizi e ameo. Come vedete questo è un intervento straordinario che si è reso necessario purtroppo per causa e comportamento di alcuni cittadini sconsiderati. Invece di apprezzare l'utilizzo di un parco come questo, come quello della città, peraltro come tutti quanti sappiamo intitolato o ragazzo scomparso, su cui tutti quanti eravamo legati, quindi un simbolo della città. Questo si rende oggi necessario, lo facciamo per ridare decoro alla città, ma al tempo stesso vorremmo che ci fosse più cura da parte dei cittadini e sperando di non dover intervenire così spesso, anche perché questo poi grava le tappe dei cittadini che sono posti che si divergono su tutti i continenti. Vedete, lì sta lavorando per togliere le scritte, dice in mezzo nei sui servizi, questo è il mazoami, quindi proseguiamo per cercare di ridare questo giardino il giusto decoro. Grazie a tutti.